15, la potenza 9, in semifinale. E' partita come un missile, è soffi a cambiare, per andare a lungo al gruppo. 630-56. Un'ultima competizione con Martina De Grado, in questa posizione, si guarda. Bene, Aiello è una minaccia. Aiello è distante. Aiello, subito. 56, 636. Infatti sono su agli punti, con Martina De Grado, con il gioco del secondo posto. Aiello, abitato. Aiello, abitato. Che vai! Che vai! 692, 636. 692, 692, 692. 792, 792, 692, 792, 792. Tranquilla, con questi tre punti, si guarda anche dietro, è successo, dove sono i miei avversari?